E' facile notare guardandosi intorno in questo periodo in cui sono in corso le campagne elettorali per le elezioni nazionali e per quelle regionali, come siano sempre meno le forze politiche e i candidati che decidono di far ricorso ai famosi manifesti elettorali sulle esposizioni morali. Questo perché internet è divenuto un nuovo e più efficace canale di comunicazione politica e di propaganda elettorale. Internet deve però in questo senso confrontarsi con le regole che governano la par condicio e la propaganda elettorale che risalgono a un'epoca precedente al suo avvento. Sono regole pensate essenzialmente per la stampa e per i media come la televisione e la radio. Spesso queste norme sono di non facile e agevole applicazione alle peculiarità di internet e spesso i regolatori vengono interpellati sulla possibilità di applicare o meno le stesse regole a internet. Recentemente l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni è intervenuta istituendo un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo dell'informazione che ha licenziato una serie di linee guida volte a favorire l'applicazione delle regole sulla par condicio e sulla propaganda a internet. Alcuni punti fermi possono essere sintetizzati, in particolare questa linea guida estendono gli obblighi di trasparenza per quanto riguarda i messaggi elettorali anche alle pubblicazioni su internet. È una regola senz'altro condivisibile. Bisogna indicare il committente responsabile che ha fatto l'acquisto e questo per ovvie esigenze di trasparenza e quindi non solo per i messaggi che vengono pubblicati sui media tradizionali ma anche su quelli che vengono pubblicati su internet. Secondo punto su cui incide riguarda la pubblicazione dei sondaggi. Vi è a proposito di vieto di pubblicazione dei sondaggi nei 15 giorni precedenti le elezioni che vale per i media tradizionali. Già in passato Agicom aveva esteso questo divieto alla pubblicazione tramite internet. Agicom ha in questa occasione precisato che i sondaggi non possono essere pubblicati nemmeno in forme per così dire camuffate, vale a dire attraverso le simulazioni come tramite raffigurazione di gare e di cavalli che potrebbero dare evidentemente una evidenza ai risultati che le diverse formazioni elettorali hanno conseguito e alle possibili proiezioni. Quindi anche sulle simulazioni Agicom ha intervenuto richiamando al rispetto di questa norma fondamentale. Ultimo aspetto interessante riguarda il cosiddetto blackout elettorale nel giorno delle elezioni e nel giorno precedente alle elezioni. Le norme che sono vigenti per i media tradizionali richiedono di non fare propaganda il giorno delle elezioni nel giorno precedente. Questa norma non prevede evidentemente alcun riferimento a internet, Agicom ha ritenuto di estenderla, sarà però curioso vedere la sua applicazione dato che evidentemente l'utilizzo di un profilo di un social network si presta a utilizzi diversi sia a tipico personale sia per motivi di propaganda e quindi sarà curioso vedere poi l'applicazione concreta di questo strumento. Certo è che Agicom ha inteso richiamare i social network e le piattaforme digitali all'utilizzo di cautele. Non ci sono in questo momento delle precise sanzioni, quindi occorrerà verificare poi come sarà la prova dei fatti di queste norme dettate in via di pura autoregolamentazione. Certo è che sullo sfondo rimane una questione e la questione è se la legislazione che è vigente in tema di parità di accesso ai media e in particolare di par condicio e sulla propaganda elettorale abbia ancora senso o abbia senso in toto o solo in parte per quanto riguarda internet. Sicuramente alcune norme conservano un rilievo centrale, pensiamo a quelle sulla trasparenza dei finanziamenti, dei contributi, in particolare nel periodo in cui le elezioni si dicono essere sempre più condizionate dalla propaganda da parte di stati esteri o di gruppi di potere. In altri casi probabilmente le regole che sono state pensate per i media non hanno senso per internet e dunque è bene che venga ripensata la loro applicazione. Grazie a tutti.